complessivamente fra i 50 e i 60, alcuni addirittura sovrapposti. Io credo, pensavamo, insomma, che, vista la delicatezza del provvedimento, questa ola poteva essere anche, come dire, lasciata un po' più libera nel tempo della propria discussione. Grazie. Sì, onorevole Farina, la Presidenza non ha scelto in maniera discrezionale. Noi abbiamo applicato una norma del regolamento che applichiamo sempre, proprio per evitare che sia la Presidenza a determinare, scegliendo un metodo piuttosto che un altro, la modalità di esame di un provvedimento. Quindi noi abbiamo applicato, semplicemente come facciamo sempre, il numero è ovviamente facoltà dei gruppi decidere quali emendamenti segnalare, ma la modalità di segnalazione è quella che noi adoperiamo, usiamo tutte le volte. Adesso do la parola al relatore per esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Prego. Glieli devo leggere io perché non sei segnalati, vero? Ma temo di avere un fascicolo in cui non ci sono segnalati nemmeno io. Adesso recuperato. 1.200 Calabro. Parere contrario. 1.202 Antimo Cesaro. Parere contrario. 1.203 Marzano. Parere favorevole. Andiamo a pagina 4. 1.204, questo lo devo chiedere. Ah, sono stati ritirati, scusate, non abbiamo, non ho fatto in tempo a segnare. Ok, cambiamo di nuovo. 1.223 Lauricella, pagina 4. Parere contrario. 1.208 Gigli. Parere contrario. 1.239 Miotto. Parere favorevole. 1.228 Daniele Farina. Parere contrario. 1.229 Santerini. Parere contrario. 1.218 Identici. 1.219 Centemero. 1.220 Farina. Parere contrario. 1.227 Antimo Cesaro. Parere contrario. 1.231 Lauricella. 1.229